La questione ecologica è fondamentale perché alla fine è fondamento di quello che già è stato detto dal punto di vista economico, tanto è vero che sempre più spesso si parla di eco-economia per indicare appunto un'economia fondata sull'ecologia, ma anche della fraternità perché appunto la questione così come è stata posta anche nell'enciclica riguarda una fratellanza che si estende anche all'ambiente e alla natura. Però è un argomento anche molto insidioso perché comunque nell'immaginario collettivo l'ecologismo in senso lato viene inteso come l'interesse per la natura, per l'ambiente, il rispetto per il mondo in cui viviamo e quindi chi può essere contro questo. Quindi una qualsiasi critica all'ecologismo molto spesso viene immediatamente tradotta in ma allora a te non te ne frega niente dell'ambiente, allora a te piace inquinare, allora andiamo avanti così distruggiamo tutto. Ma non è questo evidentemente il tema. Invece bisogna capire che dietro la parola ambiente, dietro la parola ecologia, ma soprattutto dietro la parola ambiente, poi si nascondono delle concezioni che sono molto diverse fra di loro e direi, prendendo a riferimento anche quello che è la dottrina cattolica, sono decisamente opposte. Allora io vorrei cercare di spiegare un attimo questa differenza che c'è nel concepire la parola ambiente, il concetto di ambiente e poi fare due esempi di come una certa concezione oggi dominante poi si rivela profondamente anti-umana. Allora la questione è che appunto non si parla spesso di ambiente, i cattolici quelli un pochettino più impegnati parlano di creato, normalmente si intende creato come sinonimo di ambiente, vabbè gli altri parlano di ambiente e noi che crediamo in Dio parliamo di creato. In realtà ci sono due concezioni completamente diverse, dicevo prima opposte, perché ambiente è così come concepito da quello che l'ecologismo oggi dominante, che non dimentichiamo nasce come costola delle società eugenetiche di fine ottocento e che quindi è figlia del darwinismo sociale. L'ambiente in questa concezione fa riferimento a una terra che ha un suo equilibrio, a un organismo vivente, autosufficiente, qui ricordiamo l'ipotesi Gaia che è stata formulata qualche decennio fa da James Lovelock e quindi ha dei meccanismi autoregolatori e su questi purtroppo interviene l'uomo, l'uomo che in qualche modo è l'unico in grado di far saltare gli equilibri e quindi è chiaro che genera tutta una serie di meccanismi di risposta dell'ambiente. Poi avrete sicuramente, tutti noi sappiamo che tante volte quando si parla di riscaldamento globale si parla di febbre del pianeta, anche ci sono i titoli di libri su questo, il suo riscaldamento, quindi ecco, proprio perché la terra viene immaginata come un organismo vivente. Quindi quando c'è un virus che attacca il nostro corpo per esempio, il nostro corpo reagisce con la febbre, quindi alzando la temperatura e questa è la stessa cosa, questo criterio viene applicato, l'uomo è il virus che attacca, che attacca un organismo che di per sé sarebbe bello in equilibrio e quindi ecco la questione come viene posto. Quindi già l'uomo viene visto come un corpo estraneo, c'è però sarebbe anche molto meglio se non ci fosse. Pensate anche a certe reazioni e a certi articoli che abbiamo letto in questi tempi di Covid, quando si è, ah, meno male che, vedi, quando l'uomo non si muove anche l'ambiente respira meglio, no? E questo in tanti, l'han detto, anche importanti ecclesiastici. Allora, il creato invece ha dietro una concezione completamente diversa. Intanto c'è un creatore, che non è evidentemente una questione accessoria. Dio creatore e la terra è il dono di Dio all'uomo. Cioè l'uomo non è che semplicemente fa parte del creato, l'uomo è il vertice del creato, è ciò per cui tutto è stato creato. Ed ecco qui immediatamente la reazione, l'obiezione. Ah, ecco questa, perché si dice sempre che la concezione giudaico-cristiana è la responsabile di tutta la crisi ecologica, perché questo antropocentrismo, perché l'uomo quindi che è il padrone di tutto, questo soggiogare la terra, che è lo sfruttare, eccetera, eccetera. No, non è vero nulla, perché invece è proprio il riconoscimento che c'è un creatore, fa sì che l'uomo sia responsabile davanti a chi la terra gli ha donato. Quindi non è con il terrorismo mediatico che si è responsabile, ma proprio riconoscendo il creatore, riconoscendo che noi siamo responsabili di come usiamo questo dono davanti a chi ce l'ha donato. Questa differenza si vede anche poi nell'uso dei termini. Nell'ecologismo si parla normalmente, cioè lo leggiamo ogni giorno, parliamo di difesa dell'ambiente. Cioè, se l'ambiente va difeso vuol dire che c'è qualcuno che lo aggredisce, se no non si direbbe difesa dell'ambiente, giusto? Ecco. Allora, l'uomo anche in questo caso è l'aggressore, l'ambiente va difeso. Ricordiamo che l'origine dei movimenti ecologisti, all'origine, erano movimenti conservazionisti e tuttora ce ne sono di molto importanti negli Stati Uniti, ovvero creiamo dei parchi, creiamo delle grandi riserve naturali, sempre di più per quel che si può, così togliamo spazio all'attività nefasta dell'uomo. Quindi conserviamo la natura così com'è. Quindi è un, come dire, dobbiamo conservare la natura, perché questa, la natura già così, va bene, ha il suo equilibrio, non si deve toccare. Pensiamo anche alla questione del sinodo dell'Amazzonia, questa concezione come è penetrata all'interno anche del mondo cattolico. Ma dal punto di vista cattolico invece si parla di cura del creato, che è un'altra cosa. La cura del creato implica uno sviluppo, non una conservazione. Il giardiniere, se in un condominio o in un comune viene affidato un parco o un giardino a un giardiniere, costui si curerà di migliorarlo, non di lasciarlo così com'è. Ovviamente metterà delle nuove varietà di fiori, guarderà che i colori in qualche modo si leghino, cercherà di farlo più bello, le piante che pianterà dovranno essere adeguate all'ambiente che lo circonda, anche al tipo di fiori che vengono piantati e via dicendo. Il bravo giardiniere è quello che migliora, costruisce, rende ancora più bello il giardino che gli viene affidato, sennò a fine contratto non gli verrà rinnovato, questo è evidente. Quindi questo implica proprio una partecipazione dell'uomo, cioè l'uomo è chiamato a migliorare l'ambiente, non semplicemente a conservarlo. Noi abbiamo nella tradizione cristiana una grande testimonianza di questo. Il Medioevo, monastico, ha proprio migliorato l'ambiente, ha reso abitabile, ha umanizzato tanti ambienti, ha reso bonificato tantissime azioni e intorno a questo è cresciuta, è migliorato l'ambiente, è cresciuta anche l'umanità. Non per niente Giovanni Paolo II, nelle encicliche La Bonham Exercents, fa riferimento all'uomo come collaboratore della creazione. Quindi stiamo parlando di cose che sono veramente distanti l'una dall'altra. Ora la questione, detto questo, e quindi già qui su questo punto è ben difficile trovare appunto un punto di dialogo, perché qui stiamo parlando di un e di collaborazione, perché evidentemente si perseguono, cioè non è soltanto una questione, vabbè io credo in Dio, e questo però non incide sulle scelte concrete, sulle conseguenze. Benedetto XVI una volta ebbe a dire che la minaccia più grande dell'ambiente è l'ateismo, perché chi non riconosce Dio creatore, alla fine o sfrutta l'ambiente in modo selvaggio, oppure lo divinizza. Quindi lo sfruttamento e la divinizazione non sono due cose opposte, ma due facce della stessa medaglia. Quello che invece è opposto è la concezione cristiana, la concezione soprattutto cattolica. Allora, quel tipo di concezione dell'ambiente è antiumano, sia nell'origine, perché abbiamo visto, è già nella concezione che l'uomo è un ospite, quindi deve essere fermato sia nel numero, sia anche nella sua attività. E' per questo che poi c'è tutta questa odio contro la civiltà industriale, ma anche contro l'agricoltura, per cui si ritorna a sognare, diciamo, delle ere così mai esistite, di grande armonia fra l'uomo e la natura, quando l'uomo era prima ancora della rivoluzione agricola. Ci sono due esempi che volevo fare per dimostrare quanto questo sia antiumano. Il primo riguarda un concetto che va per la maggiore, ma di cui non si può fare a meno, che è quello dell'impronta ecologica. L'impronta ecologica di per sé dovrebbe misurare il nostro impatto sul pianeta, sul pianeta, sulla Terra, quindi dovrebbe essere una sorta di unità di misura scientifica per far capire quanto noi stiamo consumando, quanto veramente stiamo sfruttando della natura. Ora, questo concetto nasce più o meno a metà degli anni 90 da due studiosi, due studiosi Magernagel e Rees, che poi hanno anche creato il Global Footprint Network, cioè questa rete globale dell'impronta ecologica. Ora, la definizione precisa, la leggo perché viene data, è questa, cioè l'impronta ecologica sarebbe la superficie di terra e di acqua che una popolazione umana richiede per produrre le risorse che essa consuma e per smaltire i suoi rifiuti, tenendo conto della tecnologia prevalente. Vale a dire, si misura la terra e l'acqua che servirebbero per le risorse da consumare e poi i rifiuti da smaltire. Teniamo ben conto che non si fa riferimento a quelli che sono i bisogni dell'uomo, ma si fa riferimento a quella che è la disponibilità della terra, per cui questa disponibilità varia in parte anche per la tecnologia prevalente, come dice lì, ma soprattutto varia a seconda del numero degli abitanti della terra, perché è chiaro che se la terra e l'acqua comunque sono un dato fisso, cioè la terra è quella e quindi la possibilità di stare dentro un equilibrio, quindi di consumare e di smaltire restando all'interno di un, senza andare nel deficit ecologico come oggi si dice, è chiaro che è data anche, è data soprattutto dal numero di abitanti, quindi se siamo 6 miliardi è un ettaro e 8 diciamo l'impronta ecologica di equilibrio, se diventiamo 8 miliardi diventa un ettaro e mezzo o anche meno, chiaro, questo è il concetto. Ma allora a questo punto, per capire dove ci porta tutto questo discorso, io invito ciascuno di voi andare nel sito di Global Footprint Network, perché poi tra l'altro anche altri siti fanno questo lavoro, però diciamo questo è quello originale, e voi entrate nel sito e trovate in alto a destra la possibilità di misurare il vostro, la vostra impronta ecologica, c'è anche la possibilità di farlo nella lingua di ciascuno, quindi si può fare anche in italiano. Ebbene, io l'ho rifatto ieri ogni tanto così per giocare, lo rifaccio, ovviamente questo lo si misura pensando a dove viviamo, quanti siamo, in quanti viviamo, cosa mangiamo, che mezzi di locomozione usiamo e via di questo passo. Quindi le cose fondamentali, non è molto difficile, si fa in meno di cinque minuti. Dunque, facendolo io, che una famiglia di quattro persone, che vive in una città, in un condominio, un appartamento di 85 metri quadri, che mangia carne e latticini, e pesce almeno più o meno una volta al giorno, che si muove un po' con la macchina, un po' in bicicletta. Ecco, il risultato, fino a che dà, è che se tutti vivessimo come me, ci sarebbe bisogno di quattro pianeti e mezzo, quattro pianeti e mezzo. Io credo più o meno di rappresentare il cittadino medio, cioè non è che, voglio dire con qualche discorso a me, ma insomma, non credo che, cioè gli elementi fondamentali che ho detto, insomma, non credo che si discostino molto da quello che appunto è il cittadino medio. Bene, interessante a questo punto andare a vedere che cosa devo fare per stare dentro un pianeta, che sarebbe l'equilibrio che ci è chiesto. Bene, vi invito a farlo, e vedete cosa dovete togliere, perché da quattro pianeti e mezzo ad uno ce ne vuole di cambiare, insomma. Ecco, in pratica, riuscite a starci dentro più o meno se vivete da soli in una casa isolata di 30 metri quadri, senza figli, ovviamente, possibilmente senza acqua corrente e senza elettricità, non muovendovi, in fondo anche i mezzi pubblici in qualche modo inquinano, figurarsi poi prendere macchine, usare macchine che consumano troppo, eccetera, eccetera. Quindi cos'è l'ideale che ci viene proposto? Magari la povertà, è la miseria evidentemente, ma se voi andate a vedere poi che cosa, perché ci sono anche le impronte ecologiche dei paesi, andate a vedere quali sono i paesi più virtuosi. Guarda caso, è uscita proprio in questi giorni l'indice dei paesi mondiali, cioè l'indice mondiale dei paesi che soffrono la fame, quindi guarda caso, i paesi che sono in cima a questa triste classifica, e cioè Haiti, Timor-Est, Madagascar, guarda caso, sono anche i paesi più virtuosi dal punto di vista dell'impronta ecologica. Credo che non c'è bisogno di commentare, di commentare, di dilungarsi oltre su questo. È evidente, quindi che la questione, come dire, cioè l'obiettivo di poveri tutti, cioè quando abbiamo detto poveri tutti non è così uno slogan a effetto, no, no, è proprio dove questa ideologia vuole portare. L'altra questione, l'altro aspetto che volevo sottolineare brevemente, è la questione delle risorse, perché anche la questione delle risorse è molto legata alla questione dell'impronta ecologica. serve da spiegare da dove nasce poi l'intuizione dell'impronta ecologica che spiega anche molte cose, ma la questione fondamentale è il tema delle risorse, ovvero si dice le risorse comunque sono scarse, le risorse stanno finendo, comunque siamo tanti, siamo energivori, quindi distruggiamo, quindi le risorse comunque si deve fare i conti con il fatto che sono finite. Ma qual è il problema? Che come abbiamo visto per l'impronta ecologica, l'idea che c'è dietro delle risorse è che sono definite dalla natura, cioè la terra è questa, c'è tanta terra, c'è tanta acqua, sì, ci sono un po' di tecnologie, ma fondamentalmente le risorse sono queste, quindi quello che viene proposto è un po' l'esempio che si fa, perché ci sono anche i programmi scolastici che spiegano questo, ai bambini si spiega che la terra è come una torta, no? La torta, c'è una torta al giorno, non si può più avere più di una torta al giorno perché questo è quello che è possibile. Quindi si fanno dodici fette, se siete in dodici ognuno avrà torta a sufficienza per la sua giornata e tutto va bene. Se cominciamo a essere quindici qualcuno rimane senza torta oppure comunque in parecchi anche dividendo cominciano ad avere un po' fame. Se poi c'è qualcuno che fa il furbo e se ne prende due di fette di torta manderà e ovviamente farà morire di fame qualcun altro e tutto il tema che toccava il professor Loredo sulla disuguaglianza. Ma questa è una concezione che è smettita semplicemente dalla realtà perché le risorse nella storia sono andate sempre aumentando e diversificandosi. Guardate i vostri vestiti che avete indosso una volta c'era soltanto cotone, lana, seta oggi la maggior parte dei nostri vestiti è fatta di fibre sintetiche costruite in laboratorio. Quindi già questo dovrebbe dirci oppure il petrolio oggi parliamo come di una risorsa 300 anni fa non lo era affatto non se ne conosceva minimamente nessuna applicazione soltanto sporcava se qualcuno per caso se lo trovava. Quindi la storia anche credo l'evidenza quotidiana ci dimostra che le risorse variano si moltiplicano anche nel numero ma anche nella quantità. se noi andiamo a vedere tutti i minerali diciamo le risorse minerali nel ventesimo secolo si sono moltiplicate rispetto alle risorse conosciute fino ad allora si sono moltiplicate e costano molto di meno si sono moltiplicate più della popolazione mondiale che pure nel ventesimo secolo è quadruplicata quindi questo discorso delle risorse evidentemente è sbagliato all'origine ma qual è il punto? che nella concezione ecologista le risorse sono definite dalla natura quindi dovrebbero essere conosciute misurabili e quindi anche immutabili e l'uomo è il predatore l'uomo è quello che distrugge quello che rovina la realtà invece non semplicemente la dottrina cattolica ma la realtà ci dimostra invece che non è vero nulla le risorse non sono né conosciute né immutabili né misurabili allo stato attuale invece la vera risorsa è l'uomo è l'uomo che con la sua creatività e la sua ingegnosità è in grado di usare di ciò che la natura gli dona per soddisfare i propri bisogni del resto l'uomo è sempre passato come dire nella storia c'è stata un'evoluzione continua anche delle risorse noi pensiamo c'è stata l'età della pietra e poi l'età del metallo non è che si è passati il metallo perché sono finite le pietre ma semplicemente si sono trovati come dire degli elementi del materiale che permetteva di fare di soddisfare gli stessi bisogni in maniera più efficiente e meno costosa questo è il punto quindi anche questo dimostra come un certo ecologismo che è chiaramente antiumano l'ultima postilla è questa è drammatico triste per certi versi ma decisamente drammatico e inquietante che questo tipo di ecologismo questa mentalità oggi sia diventato un punto di riferimento anche all'interno della chiesa perché contraddice completamente contraddice semplicemente quello che quella che il come dire l'annuncio della chiesa ma è anche proprio per questo motivo diventa un'arma contro l'uomo grazie grazie a tutti